e bentornati e benvenuti qui ragazzi nel mio canale youtube come sempre prima di iniziare questo gameplay ti ricordo che in descrizione se vuoi puoi acquistare questo ma non solo tantissimi altri giochi scontati in descrizione in più ti ricordo i miei vari canali social e tanta altra bella robetta detto questo ragazzi siamo tornati qui su real company simulator e mi raccomando come sempre prima di iniziare un bel like iscrizione al canale e campanelline detto questo apriamo il negozio ragazzi perché oggi la mia idea di oggi per l'appunto che me l'ha suggerita anche DAB qualche tempo fa dietro le quinte è di mettere un magazzino qui cioè un scaffale per essere più ordinato insomma infatti quasi quasi ragazzi vedete qua che ci sono degli scaffali ce ne sono due quasi quasi ragazzi direi che oggi li acquistiamo ma non adesso tra un pochetto aspettiamo che ci facciamo un po' di soldi così magari ne abbiamo anche un po' da parte raga ovviamente intanto chissà che entra qualcuno ovviamente perché sennò qui che facciamo hashtag ovviamente è un bel dilemma eccolo al primo al primo gentaglio buonasera signor gentaglio come sta tutto bene mi saluti a casa anche a lei signor gentaglio tutto bene tutto bene la signora Irene si vero quante robe si compra mi comprate un po' di roba gialla così vito anche questa ultima brava signor brava signor così del libro di questa scatola hashtag libero libero.it ecco il signore che si compra l'inventario si sta comprando è l'inventario no quello lo faccio io a fine cassa vabbè allora intanto eccolo qua che paga con i soldi 45 10 20 30 40 e 5 eccolo qua e 80 centesimi eccoli qua perfetto ah no devo dargli il resto zero mannaggia che mi confondo con l'altro gioco mannaggia ciut già il ma fa bo 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 anche lei con la carta signor va bene 52 e 70 oggi ci facciamo un po' di soldi e compriamo questi due scaffali che ne vorrei prendere due ragazzi e vediamo se possiamo anche ampliare il magazzino non lo so non ne ho idea intanto facciamo questi soldi che ne abbiamo bisogno hashtag soldi e vediamo un po' intanto la signora paga con i contanti 20 40 50 60 70 3 ok e 20 centesimi ok perfetto avanti venga venga anche lei paga con i contanti 50 10 23 40 50 50 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 30 centesimi 10 20 30 perfetto perfetto avanti avanti un altro buona signora anche lei paga con la carta 42 e 70 avanti un altro anche lei cosa paga con i contanti il resto 0 avanti un altro lei paga con i contanti ok 40 40 40 40 e 1 e 30 20 30 no 25 30 30 devo prendere il resto qua come come è no ho bagliato perché ogni tanto mi va ma porca ogni tanto mi va in fuorisede 10 20 30 eccoli qua perfetto sono giusti eccomi signor anche lei paga con i contanti 53 14 10 10 10 11 12 13 14 e 20 10 20 perfetto avanti un altro lei paga con i contanti 12 10 10 10 10 11 12 e 20 perfetto vai anche lei signora la t-shirt non 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 la trovo finito tutto signor ma avete fatto fuori tutto e non è colpa mia allora lei paga con quello con i contanti 12 euro e 90 perfetto avanti ok anche lei paga con i contanti allora 20 40 50 60 70 1 e 20 perfetto ci siamo perfetto allora ragazzi allora cominciamo già subito ad acquistare questi due scaffali ok 500 euro come come sono volati allora intanto intanto ok vediamo come già funziona io pensavo un po come super market che tipo alcuni ne possiamo mettere dietro un peccato peccato ragazzi per fortuna che ne ho presi due almeno un po di qua un po di là insomma tutto tutto fa brodo vediamo possiamo spostarlo adesso sì tanta roba gg che possiamo spostare il fregnetto quindi eccolo qua l'ultimo scaffale e facciamo un po di ordini anche se abbiamo un po mille euro e adesso facciamo un po di ordini così almeno facciamo un po a posto per i prodotti e loro 1 2 3 4 andiamo qua sul carrello facciamo quattro di questi quattro di questi quattro di questi e quattro di questi vai comprati per altri 400 euro e lo che bella fila che c'è qui madonna benedetta delle incoronate ragazzi quanta fila che c'è lì vabbè intanto mettiamo un po di giallo qui sotto un po a caso ragazzi poi sistemerò ovviamente no problem un po di rosa possiamo mettere anche di sotto no peccato un po di azzurro qui un po di azzurro rosso un po di rosso un po di rosa che mettiamo qua sopra nell'ultimo qua sopra un po di yellow summary yellow summary yellow summary allora anche questo yellow summary qua sopra rosso vediamo se devo metterlo qua sopra rosso sì perché no 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 qui no qui 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 no 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 vabbè dopo lo raccolgo no 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 sì 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 allora questo apposto 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 e andiamo a metterlo qua sopra posso metterlo anche qua dentro no peccato che questo gioco ancora le mod ragazzi non ci sono sarebbe stato figo ma ahimè le mod non ci sono per ora per ora per ora per ora poi forse magari in futuro le mettono sarebbe bello se mettono le mod ma per ora non abbiamo poi chissà magari adesso vedo se qualche sito magari devo stare attento anche quello che scarico ragazzi perché insomma non sempre si trova roba sicura su internet soprattutto di recente insomma dobbiamo stare un po attenti allora mi serve la t shirt gialla t shirt gialla che abbiamo finita no ce n'è uno intanto abbiamo finito la giornata ma prima di concludere la giornata vorrei sistemare un po se no qui è un problema ma io c'è un'altra cosa t shirt rosa non ne abbiamo esatto t shirt rosa devo fare refill perfetto andiamo avanti qui con un altro pipino t shirt gialle ce ne abbiamo t shirt gialle sì sì hashtag z e oggi non ho messo la webcam ragazzi perché fa ancora un po di caldo nonostante abbia piovuto tempestato grandinato però fa ancora caldo fa ancora caldo spero che questo caldo primo dopo finisca perché veramente nessuno arci stufo acci del bolina quindi hashtag der bolina allora che sembra una brutta brutta cosa io non ho più queste mi sa che non ho più vediamo quali sono sono quelle va bene metto lo stesso poi di qua devo mettere quelle rosse che sono queste qui perfetto ok quelle rosse che adesso le mettiamo le mettiamo le mettiamo poi controlliamo i prezzi se li devo cambiare perché non lo so non lo so facciamo boh vediamo adesso vediamo adesso vediamo 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 che è fatto il giorno intanto possiamo finire la giornata vediamo come possiamo siamo andati un po sotto di soldi perché ovviamente abbiamo speso per a fare incremento salvatamio il negozio di daba sta prendendo forma intanto ringrazio daba ovviamente per avermi concesso questa idea vediamo se per caso possiamo anche ampliare il nostro magazine house vediamo dipendenti espansioni negozi magazine livello 11 ammazzà intanto compriamo un altro di espansione di questo vediamo quanto grande è bello grande ragazzi è bello grande oggi di di roba ne abbiamo strafatto hashtag fatto come io aveva battute no ok ok vediamo possiamo comprare questo perfetto ragazzi dai direi che facciamo l'ultima giornata poi concludiamo il gameplay perché purtroppo il tempo è vola e tiranno è un tirannosauro dobbiamo arrivare al livello 11 ma sicuramente ci giocherò un po magari live su twitch in questi giorni adesso vediamo e niente ragazzi vediamo un po come andrà questa giornata ecco i primi clienti che arrivano eccoli qua il signore il signore arrivano arrivano i signori è come vedono i saldi questi arrivano subito subitissimo subito e arrivo ed ecco ovviamente la prima cliente eccolo qua signore adesso arriva eccoci qui lei paga con la carta certamente 29 e 80 vai avanti un altro anche lei paga con i contanti gemello chesler un euro qui un dollaro e 30 perfetto avanti un altro vai per i soldi resto 0 perfetto avanti un altro le paga con la carta signorina 50 e 70 punto 70 perfetto direi che tra un po finiamo anche il gameplay ragazzi perché purtroppo ahimè il tempo sta per volare almeno dire capo che oggi di idea dell'ampliamento del magazzino ancora è bassa però dobbiamo arrivare a livello 11 è ancora di strada di fa da fare ce n'è spero che questo che prevede mente vi piaccia se ne volete altre simili a questo mi raccomando spoliciate condividete con dei vostri altri amici perché gli amici sono importanti anche per questo canale quindi mi raccomando amici degli amici mi raccomando iscrivetevi perché insomma non vi costa niente hashtag niente spero che mi sentite anche bene perché stavo notando che i miei video erano talmente tanto alti che nonostante io sono lontano dal microfono e nonostante io lo abbia abbassato un po un peletto boh non lo so devo vedere devo vedere fatemi sapere con il volume eventualmente poi mi se mi risento e mi risento però non sempre sia la stesso il fatto coso vostro quindi niente ragazzi per l'appunto il gameplay termina qui vi lascio con la siglotta vi ringrazio per aver visto questo gameplay il client ecco cosa mancava il t-shirt rosa che aumentiamo un'altra volta e niente ragazzi grazie a tutti con la sigla ciao a tutti ciao